16 ottobre festa di santa margherita maria alla cocque vergine rivolgiti in preghiera a lei per risolvere i tuoi problemi santa margherita maria alla cocque nacque il 22 luglio 1647 ad autun in francia e morì il 17 ottobre 1690 a paraille monia sempre in francia questa santa è stata una monaca cristiana e mistica francese canonizzata da papa benedetto quindicesimo nel 1920 ella è la protettrice di coloro che sono devoti al sacro cuore di gesù infatti le sue reliquie sono presso la basilica del sacro cuore a parigi tra i suoi attributi ritroviamo l'abito dell'ordine della visitazione il libro con su scritto la grande promessa il giglio orante in ginocchio cuore di gesù e la santa è anche patrona di vignale santa margherita in livello qui ritrovate due stupende preghiere che potete rivolgere alla santa per chiederle di intercedere di risolvere alcuni vostri problemi di trovare la forza per affrontare le vostre sofferenze per ricevere una grazia un miracolo nel nome del padre del figlio dello spirito santo preghiera 1 o santa margherita maria alla cocque tu che foste scelta da dio per rivelare al mondo la divina bellezza del cuore di gesù la sua bontà infinita la sua misericordia senza limiti la sua luce radiosa fa che anche noi come te possiamo appoggiare la nostra vita sul suo cuore cuore di gesù riversa l'abbondanza del tuo amore sui peccatori perché tornino a te sui credenti perché vivano di te sui missionari perché testimonino te sui malati perché guariscano in te sui moribondi perché si abbandonino a te dammi un cuore buono sincero e disponibile capace di amare e di soffrire di perdonare e di gioire di vivere ogni momento della vita come un grandioso dono del tuo amore infinito cuore di gesù sorgente di carità di pace di verità di speranza confido in te mi affido a te santa margherita maria alla cocco prega per noi preghiera 2 o santa margherita maria dal sacro cuore di gesù fatta partecipe dei suoi tesori divini otteneteci vi soppichiamo da questo cuore adorabile le grazie di cui abbiamo bisogno noi le domandiamo con confidenza che non ha limiti si degni il divin cuore concedercele per la vostra intercessione affinché ancora una volta egli sia per voi glorificato ed amato così sia nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen